Oggi la scuola si è fermata con lo sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali ed in particolare da CGL, CISL, Will, SNALS, Gilda e Anief. I sindacati scioperano contro il decreto legge 36 del 2022 definito inaccettabile nel metodo e nel merito. Nel metodo perché si interviene per decreto legge e quindi in modo unilaterale e autoritario su una materia che riguarda il rapporto di lavoro e che pertanto dovrebbe essere regolata per via contrattuale. Nel merito perché invece di trovare le risorse per rinnovare il contratto si dà vita ad un sistema di valorizzazione professionale con premium a tantum sulla base di percorsi di formazione selettivi definiti dall'alto per di più finanziati con i soliti tagli all'organico dei docenti meno 9.600 posti di lavoro a regime. Le motivazioni dello sciopero illustrate ai nostri microfoni dal segretario regionale della CIS Scuola Abruzzo e Molise Davide Desiati. Dopo due anni di covid dopo un lockdown duro in cui la scuola ha sofferto tanto il personale della scuola ha risposto benissimo all'emergenza garantendo un servizio nel migliore dei modi invece il rinnovo contrattuale sarà misero non coprirà la cosiddetta infrazione programmata sarà di appena 40-50 euro medi su tutto il personale della scuola ma che significherà anche che ci saranno i neoimmessi che prenderanno pochissimi euro di aumento stipendiale dopo tre anni ma soprattutto il decreto legge uno strumento per rispondere a delle urgenze affronta dei temi che invece sono decennali, ventennali nella scuola ovvero la formazione degli insegnanti, la formazione iniziale degli insegnanti e reclutamento. Questo decreto legge prefigura dei tempi e una formazione che non indurrà i giovani laureati a rivolgersi al mondo della scuola e la scuola avrà ancora più problemi di precariato e non attrarrà le risorse migliori i giovani che neolaureati non possono avere davanti un percorso di 5-6 anni prima di poter stabilizzare il proprio rapporto di lavoro.